Raga, oggi vi porto con me al concerto di Ultimo, che emozione! Qualche ora prima del concerto mi sono vista con Sofie e Jenny perché poi siamo andate insieme verso lo stadio, tra l'altro io innamorata di San Siro. Mi sono presa delle patatozze e poi siamo entrate, faceva davvero un caldo devastante. È stato il concerto più emozionante della mia vita finora, Ultimo è davvero un artista incredibile. L'istante, a mia bandera qui l'istante, a mia bandera qui l'istante.